Un probabile gesto volontario da parte di una donna, l'investimento avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 14 all'altezza del passaggio a livello di Lurago d'Erba, lungo la linea Como Lecco. Il macchinista del treno R5016 non ha potuto fare nulla. Una donna di cui al momento non si conoscono ancora le generalità si sarebbe gettata sotto il treno in corsa. È morta sul colpo. La circolazione dei treni è rimasta bloccata per quasi tre ore.